oh eccoci qua dopo cinque minuti di preparazione e tempo pubblicitario per un'altra puntata extra di estate al mamma perché oggi ci facciamo approfittiamo questo special guest no e spariamoci golden axe è un altro che è un altro gioco tuo comfort insomma te lo sai in memoria perfetto quindi in verità anche io ci giocavo con mio fratello sul megadrive ma sul megadrive non so se giocavo l'1 o l'2 tra l'1 e l'2 e poi c'è il 3 che è esclusiva megadrive tra l'altro che è una figata c'è l'uomo pantera ti ricordi tutto esclusiva perché per super intendente non c'è no però i primi due so anche per arcade in quel senso volevo dire e dopo purtroppo hanno continuato fino alla playstation 2 o 3 ma no ma almeno playstation 3 che c'era beast rider c'era quello ma neanche un bidone lo voleva aspetta intanto abbiamo il mamma quanto era brutto che loro lo vedevano fisso ma eccolo qua con questo base ha visto che ci sono tre personaggi che hax butler che è il classico barbaro tipo con il c'è ispirato con le varie smother was killed by death adder quindi death adder che è il cattivo che poi vedremo che poi c'è stato fino adesso sullo schermo lei è stato ucciso la mamma è tiris flair no stavo guardando le statistiche tiris flair che poi è la protagonista quella che c'era su ps3 di beast rider che questa è la più forte del primo golden axe e ok dopo mi farei vedere qualche tricchetto allora poi visto che i nomi hanno l'uguale in mezzo e poi c'è quello che prenderò anch'io che mio fratello prendeva sempre giglio standard bellissimo c'è un grande classico tra l'altro loro ci sono su sega racing uno degli ultimi c'è loro che guidano la camionetta c'è lui una figata c'è anche shinobi a proposito questo è lo stesso director di altered beast ma poi lo stesso anno è uscito perché tutte e due dell'ottantanove anche altered beast ma ma cotta ma cotta uccida che è il game designer della siga anche questi due rigi ok sempre sua amiga sua amiga c'è golden axe come no è nato lì è nato su non anzi non so mi sa anche su come no ma sa che tutte le conversioni console sono uscite dopo comunque comunque io giocavo sua amiga questo mi raccord perché giocavo sua amiga e ci giocavo anche quell'altro che mi ricordo più che c'è un utente ci scrive l'altro chi è non lo conosco ma chi è la ben ha detto che è spavoli si si è la ben il buon perio che oggi facciamo doppia punta tazza allora e allora abbiamo già detto tutto chi è il designer è tutto tre tasti spadate salto in magia e poi vedi se corri o salti fai la mostra speciale si 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 lo ben so winner don't use drugs infatti noi non le usiamo allora volevo scegliere un basic anche questo era carino ma non ci si capisce niente poi c'è quello dell'xbox live arcade questo è bello però io voglio full screen è così la fan cristo si 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 i tasti li abbiamo messi si 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 sente tutto bene che spavi ci senti bene dai c'è spavoli c'è sbò armario grande allora vado eh vai 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 oh fammi cominciare vai vai ah si vai 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 uno dei miei personaggi preferiti poi c'è una curiosità quante bella oh quante bella sta musica io l'ascoltavo sempre bella grafica bella musica ma la musica adesso non vuoi di una cavolata non mi ricordo chi l'ha fatta non ho sbagliato e poi hai detto oh conservale no ma tanto non ti preoccupa a me della sega della sega piace molto yuzo koshiro che ti ricordi le canzoni di shinobi quelle di nananananana ma tanto quelli erano professionisti eh no cazzarole mica pizza e fili allora tu li fai qui o sta li ammazzi subito no così ecco l'altra no devi correre più veloce ecco è così tac e li ammazzi subito bene uno per uno vai si sente bene tutto ah le avevamo detto no le urla sono riciclate da mi sa rambo e dicevamo adesso questo non mi ricordo io mi ricordo che ma anch'io però mi ricordo che era rambo sono state riciclate da un film digitalizzate che ti sta sotto che c'è un altro di quelli lì sì sì ok due se ne possono prendere allora adesso qui fammi andarmi tu adesso quando arriva il boss che sono i due gemelli giganti gli tiri la bomba e dopo ci posso rimazzarlo con questo e gli tiro una? ah tira adesso tira? sì sì davevo paura che tanto che muoiono lo stesso vale basta le altre tre quattro cose e te muoiono questo muore non gli andai incontro che ti fanno male eh no no però si io no 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 non è che non ci ho mai giocato eh Golden Axe sì sì no ho detto no ho fatto per te eh anzi guarda eh devi andare se ti ti intercetti eh aspetta perché prima se cevi più bombe eh se cevi barbaro facevi la bomba poi usavi due colpe erano morti la testa ah se avevamo Axe Butler ok queste le prendo tutte io perché mi salvano tutte a te che sei più magica proprio io anche per l'ultimo boss perché non è che salvano un po' le po' le pozioni anzi falli più te un po' guarda che figata la mappa è stata la mappa è la roba più bella che abbia mai visto per quella volta sua amica dicevo cos'era la mappa vabbè scritto è livello 1, livello 2, basta c'erano i bivi nell'1 no vero? c'erano i bivi no no non c'erano niente era tutto lineare allora vieni qua io ho la linea nera del personaggio vieni qua vieni qua vieni qua che adesso loro corrono no? sì guarda adesso ti fai questo adesso loro corrono guarda eh e tu li butti giù ahhh trattando che ce ne sono altri due devi fare lo stesso giochetto vieni qua fai così e adesso loro corrono perché sono idioti ho detto che siete idioti ecco e cascano giù e non ci perdono ma cazzo ma tanto qua non c'è manco il punteggio stavo dicendo c'è allora non c'è però c'è un amico mio di Milano che cosa dice? no no non è che dice hanno c'era un matematico su un cavolo che quello è successo che c'è un punteggio alla fine del gioco però non si trova a dire però hanno iniziato a giocarci 20 miliardi di volte e hanno calcolato tutti le morti tipo qua sono buttato dal burrone e ti dava di più si domenavi in un certo punto e sono riusciti a fare sta roba a stimare l'algoritmo si comunque si me l'ha fatto vedere tanti anni fa capito? tipo 10 anni fa 15 anni fa eh no no certo non so come hanno fatto ho capito a fare i calcoli però c'era un matematico penso che abbia anche spuntare il fuoco c'è ci sono tante probabilità eh c'è scritto sega che lo ho visto prendete 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 questo ah io ce n'ho manco uno infatti prendete perchè ci sarvi dopo con il boss adesso c'è anche prendi anche quello più forte ti ha detto prendi il drago rosso che sputa come cambiava il drago rosso? che sputava? che sputava? dire grazie sputava il fuoco dritto le palle di fuoco non arrivava il rosso ancora sto giù guarda attenzione guarda attenzione perchè dopo un po' lo scrivono giù e va via no perchè comunque quello della play 3 che è una monnezza però se l'avessero fatto bene io ci avrei giocato se era un action carino io ci avrei anche giocato eh non si è un partito di quello come Altered Beast del PS2 madonna Alter Beast però quello lì sai che la gente si indignerà ma forse non è male io non l'ho giocato però l'ho visto un po' Alter Beast quello che la lascia cioè è bello che hanno modernizzato la storia ah no il rossero dopo non l'avevano ci hanno oscillato tutti c'è questa qua lì che c'è nulla vabbè picchia picchia fanno rimbalzate eh la madonna che quanto si gonfia fanno rimbalzate vabbè ti li hai prese tutte ok adesso qui ci dovrebbe essere quello che sputa il fuoco rosso questo infatti c'ha uno sciottino diverso prendilo prendilo eh qui si fa me butta giù ma spara ah io non faccio niente è diventata è diventa una cazzata basta che andiamo avanti e ti spari non ti avvicinare spara quello lì bravo adesso ti prendo questo qui ecco bravo eh siamo a posto tanto tu a me non mi colpisce quindi tu attento che è tu attento che io ti fai ma pensa che noi ci possiamo eh scusa ah non pensavo noi ci potremmo sparare ecco con gli animali si no dicevo aspetta scusami qui io non ce l'ha fuori no dai presti si però meglio piattuto te ah intanto piattuto io quindi farò il salto veloce eh no no adesso visto che figata che è una tartaruga no quello te volevo dire quanto mi faceva impazzita fiolo la tartaruga ma c'era il dash si ok ah no adesso qui ci sono due allora te levati 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 veniva un po' più avanti vieni verso di me che adesso scappoglio con martelli grossi ah i boss non sono boss ah si è il boss del primo stage perchè scappa fuori forse uno ecco arriva se adesso sparassi ti becco non perchè devi sparare a trovare no no ecco adesso c'è il boss adesso arriva uno gru piccoletto che pure tenere più più della vita cazzo a memoria alzai eh adesso tutto è memoria adesso ci sono un po' di sgherri arriva sta attento alla spada c'è il minotauro ecco non andare avanti no no il minotauro c'è l'uomo di là c'è l'uomo di là c'è l'uomo di là c'è l'uomo di là c'è l'uomo tutto infarrato lì ma già stage 5 siamo no no ah si ah lui si eh ti accordi no penso basta che fai così l'uomo eh no faccio via faccio via basta che è finito morto eh m'ha preso come ha fatto e poi è capitato non è mai capitato eh faccio no non lo fare non lo fare eh geronimo eh geronimo tipo ti ha detto non lo fare che ti prende che c'ha non ti prende anche a me è un ignorante eh è un sbaglio ma si copiare secondo me no non si copiare la roba no 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 è una cappella di roba ma cosa si fa? tira la bomba tira la bomba ma neanche la combo normale no la combo si è solo che è una cappella lui e ho sbagliato io comunque si ammazzava col drago capito? aspetta da quanta che non ci gioco più si si penso che se uno stesse stesse col drago no? tu fa conto che l'ultima volta ci avrà giocato sua amiga chi c'ha più giocato a questi giochi ma se la giochi Thomas se la giochi no? la sua amiga come è fatta? è veramente un po' diverso ah io ti fa vedere che noi con la tarattaruga siamo arrivati ah qui ci sono tutti gli scheriti no tu dovevi schippare non ho schippato l'ho fatto da solo si si ah qua ci sono tutti gli scheriti che paglia questa è un po' una bella pallina non mi sta lì vicino all'inizio ah poi se schiacci tutti e due salto e ricordi ti fa questo ah si che colpisce dalla parte opposta si come la la gomitata di double dragon infatti ho letto che Makota uccida perché dopo altre riviste ha voluto fare una roba anche a scorrimento di profondità perché voleva imitare un po' un final fight va piano qui no final fight che è uscito poi nello stesso anno un po' un double dragon che questi sono forti eh si beh quindi non mi capisci ogni tanto ti vedo che tolgo via due cose eh ma io fa così ok avanti che adesso ne scappano fuori i due ma io anche questa mi ricordo era forte si ma vabbè non serviva non serviva quasi un pezzo mi ricordo che lo prendeva ma lui guarda che roba ha quella che fa la invece lei e axe battler si ti display no l'avevo preso mannaggia poi lo posso prendere ecco vedi vai 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 un'altra volta ma ti pie subito lui si no eh si perché c'ha la cosa più lunga così diventa così brutta è impestato si vabbè qui dove c'è ah io ho fatto meglio ah io ho fatto meglio qui il boss sono loro eh questi qua quanti sono? ma qui questo non mi ha capito che non riesco mai cioè ce ne sono due o tre ma è solo che vedi che combogliono subito con un colpo eh da dietro hai preso anche avanti eh guarda guarda eh guarda guarda ho visto tanto l'hai buttato giù anche a me intendo che quella si fai lì in avanti aspetta 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 no se tu le due aspetta eh vai la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba eh almeno colpiscono tutti i tre ecco come si ho fatto un bel lavoro io non la tiro perché la tiro il tuo boss voglio solo l'ultimo boss tanto questo è un boss eh quello che stiamo facendo sì sì lo so quindi non è perché sparcare la roba così perché mi ci vuole quando far riempirla tutta mi fido del trucchetto eh ecco finito questo ma perché il segno stage 7 perché ogni scenario ogni scenario è uno stage vai sì mi ricordavo infatti cioè non mi ricordavo ah questo c'è ah il mio ecco ah ce n'hai una marea fai un pò anche a me ah anche a madonna vabbè che tanto li ritroverei adesso da l'anquilla passiamo al boss finale qui c'è possibile si ma quella così corto il primo si poi sto detto facciamo una cosa veloce allora qui vieni avanti vieni avanti vieni ah no aspetta vieni avanti qua non ti fermare non ti fermare eh beh ormai sono in comodo ah ok a madonna vabbè fiamo vieni giù vieni giù no ecco eh apposta eh no apposta ho detto vieni giù no orca vieni giù qua e fa così ecco ah era qui eh eh ti ho detto vieni giù opposta corri con me ecco io da piccolo ho il trama delle cadute si lo so ma tutti hanno il trama di queste cose capito e per quello sto attento qui perchè vale l'anquilla che sprite oh dell'89 sto gioco ma poi qua ti sto attento perchè se vai troppo su troppo giù cadere ah no sto troppo su pochè deficiente ci ha fatto perdere anche il colo vabbè vabbè no non va bene perchè qui c'è 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 un boss il drago il guerriero c'è quel di primo di ferro però rosso no non mi ricordo c'è certo o due ce ne sono eh uno è andato via ma qua non poteva far cadere qualcuno no allora io c'ho non l'irritazione al naso c'è l'allergia non so che tirare la bomba e neanche tiro? no no se vedi in difficoltà perchè sono una merda si puoi anche tirare intanto si una perchè non fa niente no vabbè però oh scusa se io facevo sempre lo schiattino che non era male tiro bene questo ho giocato a capodanno sulla switch che l'avevo portata siccome non c'era tutti andavano a dormire allora sei un amico mio con i due controlli perchè c'è su si ecco perchè c'era ero rosso mi ricordavo ecco perchè dicevo orco 2 regale eh ma dopo ce li ehm ce la fai questo per il boss finale a riprenderle però questi in due tolgono una balla questi tolgono una balla ecco vedi che si muoiono subito basta una coma una cosa no basta la mia cosa eeee ma direi c'è il boss finale mi prendere tutto da me quanto mi ha fattuto meglio si si più tanto non ci faccio niente ma vabbè c'hai l'appucio dai 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 c' treaty vabbè ma ddathader è finksimo io l'ho anche disegnato se andate su Instagram c'è il mio disegno di dettaglio è uno dei villain più belli dei sempre e poi c'era mi ricordo che c'era un trucchetto per battere questo era una cazzata però adesso come sono invecchiato comunque anche giocando a caso non ne avevo consumati tanti 1,2,3 ma cazzo era così corto si ma erano giochi corti cioè corti se lo vuoi giocare per bene o l'hai da giocare a San Giatone sinceramente non è facile non ne avevo messi tanti e ripeto c'era anche un trucchetto per farlo sta fermo lui non farlo mai muovere no lui è immune da per te no 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 tocca sempre vedi si lo fa ce la faccio anch'io con il mio potere ah ok pensavo fosse sta a fare un attacco il fantasma di fuoco lei è bellissima e poi non mi vorrei dire una cazzata ecco che c'era impallato era quello si 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 però non vorrei dire una cazzata ma non so che c'erano anche due finali ecco e da come facevi non mi ricordo questo non l'ho mai fatto non ce l'ho visto in video quello era Magic Sword no 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 era sempre questo ah si sicuro e se però sicuro l'ho visto e cosa succederà io so quello che siamo in un videogame quello lì no 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 qui questo è il primo finale si quello che si quello che c'erano però che sono dei ragazzi che giocano in sala gioca si si questo sarebbe il finale beh lo vediamo insieme per chi non l'ha visto a casa abbiamo spoilerato comunque a Death Hunter io ho fatto tutte le combo precise solo che gli scheletri mi hanno rotto le barre eh quello è fatto che ci sono gli scheletri c'è quello c'è quell'altro sono dieci stage c'è nove stage nove dieci stage no in teoria dieci dovrebbero escire ma dopo di lui è finito eh entri in una porta mi ricordo bene ma perchè l'ho visto fa in un video ma questo è dieci eh oh dopo ci facciamo anche a vedere no ma hanno rotto le pile sto cazzo emiliano canini te lo ringraziamo sei iscritto a youtube cioè poi non vorrei fa nome ma l'ho letto così perchè mi è arrivata notizia no non lo so però tipo su twitch si fa che tu chiami ah io non so manca qua twitch è quello che stiamo usando ah io sono l'anteguerra morto oh posto poi gli va addosso vero? zaaah no nel sangue no però peccato che è morto top screen e loro salvano i nobili non si sa dove vanno coloro lì eh non tocca niente no no finito ma no ma perché non me lo ricordavo così forti facciamo una roba veloce forse su mega no il 2 forse ho giocato forse il 2 sarà un po' più lungo ma vedi 1 2 3 4 5 però tipo contando anche le notti eh le notti che cazzate ecco bellissimo last survivor tic 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 scappavano tutti loro nella realtà great axe poi pao 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 chissà un ballo perché pao pao caffè mi viene in mente ma snk ecco ex battle tees player eginio standard eccolo qui bellissimo sti colori esatto che sta inquadratura me la ricordavo quando loro scappavo eh questo era un giochino così da sola gioia tipo alter beast può essere più lungo alter beast sincero però perché era più lento no questo è più lento sicuro no la dava i cazzotti se fermava dava i cazzotti eh però dopo c'è tutta la piazza diventi lupo vai avanti indietro dopo vai avanti più veloci ma era sì anche questo è veloce però vedi ok finito anche questo vedi abbiamo preso 10 vite vedi il punteggio com'è qua è la forza ah vedi c'è tipo quella roba lì scassissima questi hanno questi di milano questi ragazzi hanno un matematico ha riuscito a fare il calcolo di come tu puoi fare più punti penso a te non ci fa manco scrivere il nome proprio piazzi sì sono cattivi a posto bellissimo finita anche questo bellissimo guardate comunque stupendo sembra un grande fottuto gioco capolavoro sì sì questi giochi non moriranno mai poi è bello a volte giocare anche la versione console per capire che magari era inferiore a livello era inferiore era 16 bit alla fine però quindi l'arcade non so quanti c'era solo un sistema diverso non so io poi non so ignorante su queste cose e niente va bene vabbè la sta doppia puntata niente vabbè che sono dopo verranno caricate divise speriamo che si è sentito tutto e vi ringraziamo vi ringraziamo questo è un pezzo mi lo so e ci vediamo l'estate prossima oppure vabbè October SNES vuoi venire a fare qualche gioco dello SNES insieme vediamo tipo ho qualche idea poi vediamo va bene dai va bene grazie per chi c'è per chi c'è stato e chi ci sarà ci vediamo alla prossima e bom intanto chiudo ciao a tutti ciao a tutti e chi sei isto sei isto buono grazie a tutti grazie a tutti